le immagini dall'alto ci portano nella vallata di val fontana buona in territorio ligure nella provincia di genova san colombano certenuli con questa piccola località quella di calvari ci porta vicino a coloro che erano gli avidi che sto fuori colombo ammedeo giannini il fondatore della banca d'america e le origini del cantante più popolare del novecento parliamo di frank sinatra qui tanti tanti appassionati di ciclismo fanno anche tappa per scendere lungo la ciclovia dell'artesia oggi fanno tappa la categoria amatori con la prova a loro riservata ed è il momento appunto dello start con in griglia i fascia 1 2 3 e master woman da sottolineare che qui c'è la presenza del campione d'italia massimo folcarelli dell'italaziale che per i master domina le prove di mountain bike e ciclocross da quasi 20 anni e beh parlavamo di quella che è un luogo dove il ciclismo è di casa e qui ovviamente c'è la val fontana buona al velo val fontana buona con roberto fortunato nell'organizzazione della seconda edizione di questo gran premio val fontana buona trofeo san colombano certenoli internazionale di ciclocross categoria c2 e ora appunto subito stiamo assistendo a questo a questo partenza ha sprombattuto con la coppia massimo folcarelli e michele piras che è un m1 folcarelli m4 si corre nella fascia 2 stiamo uscendo dall'alveo del fiume continua la sfida tra folcarelli e piras ed è scatenatissimo massimo massimo folcarelli dicevamo appunto la prova dei master che sarà a colei che apre la seconda giornata di gare perché nella giornata precedente abbiamo visto le categorie internazionali con i juniores uomini e donne il pomeriggio gli uomini e donne degli open per chi non è in gara austin in olanda dalla prova di coppa del mondo cessa colombano certenoli e oggi appunto al mattino i master incominciano a solcare il terreno proprio lasciare i solchi e come vedete appunto nel terreno con massimo folcarelli che praticamente sta sgommando via da piras e qui attenzione proprio appunto per anche colei che al comando nella gara femminile troviamo la porta colori del team marchisi ubici si tratta di cristina casazza che adesso è riuscita appunto a svalicare questo questo cunetta che gli organizzatori hanno allestito ma le telecamere fisse sono quelle del campo da calcio che oggi la lascia spazio al ciclismo con le ultime curve per folcarelli che va a trion fare in solitaria tutto solo cinque mondiali sei europei 25 titoli italiani per lui massimo folcarelli leader incontrastato nel settore del ciclocross attendiamo quindi le prossime partenze con la fanfara degli alpini adesso che si esibisce nel campo centrale sound il bellissimo sound che possiamo appunto ascoltare in sottofondo le premiazioni proprio appunto con i protagonisti delle categorie con massimo folcarelli sul gradino più alto ecco roberto opportunato appunto insieme a franco queirolo assessore del comune di san colombano certeno appunto ha premiato i protagonisti e ora gustiamoci queste splendide immagini per concessione dell'arma possiamo vedere dalle action cam dei paracadutisti tutte le fasi di un lancio spettacolare del del lancio dei paracadutisti dei carabinieri del reggimento tuscania bellissime appunto queste immagini con il tricolore che va a colorare il cielo della vallata di san colombano certeno lì appunto qui con il reggimento bellissime e suggestive queste immagini poi baciati dal sole quindi insomma una vedete appunto le bandiere tricolore che sventolano lungo la vallata uno uno spettacolo veramente molto molto entusiasmante anche per gli atleti che vedono qualcosa di diverso insomma anche nelle organizzazioni e questa è veramente un'organizzazione in grande stile con il primo cittadino di san colombano certeno lì che si va a salutare e a complimentarsi per l'ottimo lavoro svolto da parte del comando dei carabinieri del reggimento tuscania e ora è il momento della categoria esordienti di secondo anno partiranno separati da quello che sono parte del primo anno qui vediamo appunto che sono prossimi e la bandierina scacchi sventola si parte subito vediamo mani basse sul manubrio ora alte per tomaso roggi olimpia col gruppo sportivo olimpia baldarnese protagonista di una grande stagione nel ciclocross fino a questo momento vediamo appunto che sono poco più di 18 i concorrenti della categoria esordienti di secondo anno con tomaso roggi e poi c'è la rostese formazione piemontese in seconda posizione gruppo sportivo borgo nuovo in terza piazza vediamo quindi ora prossimi al passaggio sugli ostacoli in questo tracciato leggermente diverso dalla prima edizione che misura 2,9 chilometri e che è molto molto suggestivo molto tecnico punto anche se veloce infatti è qui ha vinto la sua prima gara dell'anno silvia persico che si è tornata nel ciclocross e subito ha già fatto ha già vinto ha già fatto vedere appunto che ha già messo subito in regola le avversarie le dirette avversarie e qui intanto stiamo vedendo questa fase con il campo che prima era leggermente ghiacciato adesso sta si sta scaldando molto velocemente la la temperatura e quindi si sta cominciando a a mollare come si dice insomma vediamo adesso tomaso roggi in prima posizione sempre lui che continua al comando dietro c'è la maglia quella giallo giallo rossa calderare stm riduttori che adesso è passata in seconda posizione mentre tomaso roggi però ha un vantaggio importante già che è andato a conquistare verso quando siamo verso la fine del primo giro eccolo qua il ragazzo della toscana in seconda posizione è andato a transitare nicolas scalorbi in questo momento per quanto riguarda poi la terza posizione del gruppo sportivo borgo nuovo quindi eccoci qua alla fine del primo giro con tomaso roggi seguito da nicolas scalorbi della calderara stm riduttori l'emiliano romagnolo punto in seconda posizione poi segue andrea mariucci qui e poi c'è spagno del gruppo sportivo borgo nuovo queste appunto sono le prime posizioni con un roggi che però scatenatissimo sembra inarrivabile quest'oggi ancora non si intravede la sagoma di nicolas scalorbi ecco che esce dall'ombra appunto scalorbi nato il 12 settembre 2009 a ferrara vincitore del master cross dell'emilia romagna terza posizione ora per spagno quindi superato superato in questo momento per quanto riguarda il portacolori della formazione di andrea mariucci quindi in che ora è passato in quarta posizione via via adesso stanno andando a transitare tutti gli altri questa appunto è per quanto riguarda la situazione nella categoria esordienti di secondo anno con un tomaso roggi scatenatissimo che come dicevamo adesso scende giù dalla bicicletta perfetta quindi ha deciso di affrontare questo tratto nella maniera più veloce che si poteva bella falcata anche per nicolas scalorbi della calderana stm riduttore e poi va a transitare spagno in terza posizione gruppo sportivo borgo nuovo veramente un finale entusiasmante con tommaso roggi che entra adesso nel per quanto riguarda l'ultimo l'ultimo rettilineo siamo praticamente al grandissimo finale le ultime centinaia di metri per il ragazzo appunto del gruppo sportivo olimpia valdarnese in seconda posizione con un bellissimo sprint nicolas scalorbi terzo invece marco spagno gruppo sportivo borgo nuovo e qui appunto il podio che si va a stilare con tommaso roggi nicolas scalorbi e spagno quindi eccoci qua con la categoria esordienti di secondo anno la vittoria per tommaso roggi qui appunto mentre si sosseguono le gare possiamo anche assistere quello che è un area expo praticamente della bicicletta qui in liguria una mostra che ha visto non solo produttori di biciclette produttori nella varia componentistica nell'abbigliamento nella stampa specializzata è tutto un mondo è tutto un un comparto che si muove legato appunto anche a quello che è la tradizione dei luoghi della regione e qui siamo ovviamente in una terra ricchissima di prelibatezze anche culinarie col trofeo le gueglia il giro dell'appenino per i professionisti il giro della lunigiana la corso più importante al mondo di juniors insomma veramente un territorio straordinario e qui è il momento lo start per la categoria allievi di primo anno piede giù subito per andrea meloni poi del race monte in full carelli team e subito grande cattiveria qui in questo momento per michele falciani che ha preso prepondentemente la testa della corsa quindi categoria allievi di primo anno con la race monte in full carelli team quindi dicevamo un percorso adesso che adesso si vede un po più è asciutto completamente la giornata di ieri è stata completamente ventosa mentre oggi oggi grande grande alta temperatura sole vento praticamente quasi assente quindi una una splendida giornata per anche gli organizzatori che ieri erano stati messi a durissima prova nell'organizzazione delle gare internazionali ma con grande successo e capabilità hanno risolto prontamente ogni disguido e hanno e hanno portato a termine la giornata nei tempi previsti quindi una grande regia quella di roberto apportunato nell'organizzazione della velo balfontana buona qui adesso nel tratto degli ostacoli al comando è michele falciani ktm alchemist in questo in questo momento quindi dietro andrea meloni della race monte in full carelli team situazione quindi che si è andata a devolvere in questo tratto e il ktm alchemist la formazione che insieme al race monte ai full carelli team porta i suoi ragazzi dal lazio in giro per l'italia sta subito mettendo le cose in chiaro appunto michele falciani seconda posizione per per quanto riguarda meloni e poi c'è la dp 66 giant smp ancora un'altra inquadratura appunto proprio per la leadership quella di meloni in seconda posizione con michele falciani e per quanto con meloni perdone volevo dire con meloni della della formazione della race monte in full carelli team vediamo appunto di chi si tratta per la dp 66 con numero dorsale 91 gregorio acquaviva pare proprio lui della dp 66 giant smp rostese a qui che è andata a transitare con la formazione umbra adesso della forte braccio da montone e attenzione perché siamo appunto al passaggio con le palanche di legno e in questo momento si è formata la coppia al comando con falciani michele falciani del ktm alchemist e gregorio acquaviva leader del master cross eccoci qua il portacolore della dp 66 giant smp adesso è balzato al comando dopo che michele falciani aveva preso prepotentemente la testa della corsa subentrato davanti ad andrea meloni del ktm ma adesso sta mettendo il turbo proprio il portacolore della dp 66 giant smp con gregorio acquaviva con falciani invece che lo sta inseguendo vediamo appunto dietro la situazione con marangon abbiamo visto poi c'è anche carosi in queste in questo passaggio appunto proprio con la terza e quarta posizioni vediamo che lo affrontano il tratto più lontano con i dossi sulla bicicletta falciani acquaviva vediamo che non tenta di mollare neanche più un centimetro falciani con un acquaviva scatenato pronto sempre a dettare il ritmo adesso scende giù dalla bicicletta per approntare questo ultimissimo tratto stretto vediamo che quasi quasi a spallate tra i due eccoci eccoci con le ultime ultimissime fasi in questo momento con il portacolori marangon e carosi che ha raggiunto adesso falciani acquaviva si prospetta quindi uno una bellissima volata a tre attenzione però attenzione con la ktm alchemist con falciani che prova adesso a forzare l'andatura proprio praticamente a poco prima di entrare nello stadio nello stadio di calvari attenzione ora la dp66 giant smp che riprende per potentemente la testa eccoci con le ultime curve si entra proprio con acquaviva in questo momento stiamo per entrare nel campo con acquaviva che ha preso un bellissimo margine di vantaggio una progressione importante mentre carosi sta superando falciani e quindi acquaviva in prima posizione con carosi in terza posizione falciani eccoci qua nuovamente l'arrivo a rallenti con la vittoria di gregorio acquaviva della dp66 giant smp ecco eccoci punto sul sui gardini del podio con anche il vice sindaco di san colombano certenoli che ha raggiunto appunto la zona delle premiazioni insomma anche la comunità anche le autorità vogliono stare vicine all'organizzazione della velo val fontana buona ora il turno delle ragazze esordienti allieve e da osservare che la corsa è seguita seguitissima da anche il commissario tecnico della nazionale di ciclocross daniele pontoni partenza delle ragazze categorie esordienti e da lieve vediamo subito una sbandata nelle retrovie si fa spallate appunto per andare a guadagnare posizione su posizione nel frattempo la prima partenza è quella con la prima posizione delle partenze quella di martina montagnere di p66 giant smp la riconosciamo appunto la sua sagoma c'è la ziraf guerciotti poi con emma franceschini queste sono le prime due posizioni che hanno preso qualche vetro di vantaggio sin dalle primissime fasi di gara e adesso una progressione ancora molto molto importante proprio quella della dp66 giant smp scendono tutte dalla bicicletta sono ostacoli molto alti superano sono 40 centimetri sono 4 sì 40 centimetri abbondanti praticamente infatti abbiamo visto anche nella giornata precedente pochissimi sono i ragazzi della categoria open che hanno affrontato quel tratto anzi a dire la verità quasi quasi nessuno in parte qualche salto qualche bunny hop nessuno nessuno ha deciso di affrontarli sulla sulla bicicletta qui intanto la situazione al comando è sempre per martina montagnere la portacolori della dp66 giant smp classe 2007 con questa ragazza bronzo già nella passata stagione al campionato italiano di variano di basiliano e quest'anno ha ottenuto già la vittoria alla prima coppa san vito trofeo del trofeo trivenito siamo in zona box appunto per colei che ha già messo in saccoccia una vittoria appunto quest'anno è bellissima questa suggestiva vista dall'alto che ci consente appunto di vedere e anche andare a quantificare a livello visivo il vantaggio già importante ottenuto da martina montagnere seguita dalla da per quanto riguarda le sue spalle dalla porta colori della libertas ceresetto è una coppia al suo inserimento attendiamo appunto il vero riscontro visivo un po più vicino quando intanto tutta sola continua la sua marcia martina montagnere della dp66 giant smp si sta riportando appunto nella zona nella zona dell'arrivo la leader di questa prova mentre appunto dietro c'è la maglia della libertas ceresetto e un'altra maglia della dp66 giant smp quindi coppia che è distanziata da una quindicina di secondi l'aggiornamento della situazione per quanto riguarda queste questa prova è di una quindicina di secondi appunto per la leader martina montagnere eccoci qua in zona in zona arrivo alla fine del primo giro con lei che appunto ha già fatto letteralmente il vuoto martina montagnere come abbiamo detto già bronzo al campionato italiano già vincitrice poi ha fatto già anche degli altri podi quest'anno ha partecipato all'internazionale di firenze insomma una e anche lì è giunta quarta se non erro quindi è partita molto molto bene quest'anno vediamo appunto la situazione alle sue spalle con carlotta petris della dp66 giant smp e c'è camilla murro per la libertas ceresetto l'inconfondibile maglia quella bianco rosa della libertas ceresetto numero dorsale 103 camilla murro poi è figlia d'arte di cristian murro professionista ex professionista che oggi appunto fa tra gli organizzatori del giro del friuli per la categoria antecedente al professionismo la categoria under 23 quindi con cristian murro che è qui ovviamente a vedere e a seguire appunto la corsa della figlia che in questo momento è in seconda posizione con camilla murro carlotta petris mentre si sta prestando all'arrivo la grande dominatrice di questa prova martina montagnere eccoci con murro con petris pronti quindi per una sfida tra di loro per quanto riguarda il secondo gradino del podio mentre la vincitrice è martina montagnere della dp66 giant smp dopo la prova del triveneto seconda affermazione stagionale qui a san colombano certenoli vediamo lo sprint dietro invece quello per la dp66 con murro con petris in maglia della libertà ceresetto vediamo appunto si vanno ad affiancare in questo momento con l'esterno per petris petris e murro ed è petris quindi che va a prendersi lo spunto conclusivo davanti a murro della dp66 giant smp montagnere davanti a soffia cambri l'emiliano romagnola della ale e maddalena simeoni poi in terza posizione ecco citato col ct della nazionale che è stato anche premiato da parte dell'organizzatore anche qui si sono perché qui il commissario tecnico pontoni ha tenuto anche uno stage con le ragazze e i ragazzi per capire chi sarà convocato prossimamente e abbiamo visto anche murro per quanto riguarda il protagonista carlotta petris terza valentina bravi abbiamo visto mentre la prima delle esordienti è giulia ballone ora lo start è quella degli allievi di secondo anno al via ci sono due protagonisti del giro di taglia ciclocross sono due umbri tutti e due appartenenti alla forte braccio all'unione ciclistica foligno si tratta di giacomo serangeli e mattia proietti gaia ardoni unione ciclistica foligno per loro e la partenza velocissima è stata subito di giacomo serangeli mentre proietti che è il leader è la maglia rosa del giro di taglia ciclocross si trova intorno adesso si è riportato un po' più avanti è lì intorno alla terza posizione vediamo appunto che subito però serangeli che è giunto sempre terzo quarto al giro di taglia ciclocross oggi ha deciso di volersi posizionare davanti usciti dal dosso artificiale proietti gaia ardoni si è portato al comando sta guadagnando metri su serangeli siamo nel primo giro siamo solamente alle primissime centinaia di metri per i ragazzi con mattia proietti gaia ardoni che ha già conquistato un bel vantaggio mi è bastato mezzo giro insomma per questo ragazzo che nel giro di taglia ciclocross difficilmente ha avuto dei rivali se non in qualche tappa del giro di taglia ciclocross contro soprattutto il suo sfidante numero uno riccardo da rios della san fiorese qui eccoci appunto con Emanuele Ferruzzi della Bessica Lenzano adesso e Giacomo Serangeli dell'Unione Ciclistica Foligno queste sono appunto le posizioni dietro al leader adesso via via tutti gli altri componenti del gruppo con la Michele Bartoli Academy, la Le Cycling, con il gruppo sportivo Olimpia Valdarnese vediamo appunto tutti quanti scatenati tentare di andarsi a conquistare le posizioni di rincalzo perché il grande dominatore è lui infine a questo momento all'ultimo giro via con Mattia Proietti, Gaia Ardoni eccoci qua 21 volte nei primi 10 quest'anno nella conclusa stagione su strada tre vittorie, tre affermazioni e poi anche nel settore della mountain bike terzo all'Isola d'Elba ad aprile allievo di primo anno eccoci qua appunto con la situazione che vede la Toscana con Emanuele Ferruzzi con Giacomo Serangeli alle spalle transitano Alex Fratti quindi Giacomo Serangeli per quanto riguarda quindi queste sono le situazioni che sono in evoluzione alle spalle attendiamo di conoscere quindi il finale l'arrivo conclusivo perché vediamo appunto che dietro sono tutti molto molto vicini non è così scontato l'arrivo se non che un strepitoso Mattia Proietti, Gaia Ardoni da Assisi da Santa Maria degli Angeli nato il primo agosto del 2007 eccoci qua con il grande protagonista del Giro d'Italia ciclocross Emanuele Ferruzzi alle sue spalle la Toscana è presente appunto con la Bessi Calenzano in seconda posizione vediamo vediamo quindi poi c'è Giacomo Serangeli in cima alla alla vetta del del colle per quanto riguarda quindi con appunto Serangeli e poi c'è Fratti con Cuneo anche che non è molto distante qui invece il grande dominatore della prova riservata alla categoria degli allievi Mattia Proietti Gaia Ardoni eccoci qua con il dominatore del Giro d'Italia ciclocross dei quasi tutte le prove Mattia Proietti Gaia Ardoni unione ciclistica Foligno vince a San Colombano Certeno lì in località di Calvari attenzione quindi anche alla seconda posizione è soddisfattissimo Emanuele Ferruzzi in seconda piazza terza posizione vediamo lo sprint Michele Bartoli Academy Alex Fratti e arriva anche Cuneo Cuneo in quarta posizione a Franto ha fatto anche lui una grandissima gara ha tentato in ogni modo di riportarsi sotto mentre Serangeli scende in quinta posizione unione ciclistica Foligno l'arrivo nuovamente a rallenti con il dominatore Mattia Proietti Gai Ardoni il podio quindi con Emanuele Ferruzzi e Alex Fratti da San Colombano Certeno lì è tutto da Leonardo Metalli l'appuntamento alla prossima prova con la terza edizione del Gran Premio San Colombano Certeno con la terza edizione di appunto la velo Val Fontana Buona grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.